Il traforo del Gran Sasso per quest'anno non sarà più soggetto a restrizioni di traffico. Le condizioni invernali non consentono infatti l'avvio di nuove operazioni nelle gallerie, a dichiararlo Pierluigi Caputi, commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso durante l'audizione in commissione ambiente della Camera. Caputi ha precisato che nei prossimi mesi non saranno effettuati carotaggi all'interno del traforo, ma si procederà invece all'iter autorizzativo per 5 carotaggi esterni nell'ambito delle verifiche sulla sicurezza dell'acquifero che rifornisce circa 700.000 persone. Le attività sono state sospese il 17 ottobre quando Italfair, società del gruppo RFI, ha segnalato un danno a una conduttura e l'aumento della torbidità dell'acqua. Per chiarire le cause dell'intorbidimento è stato istituito un gruppo di lavoro coordinato dal Sian che ha fin da subito confermato la sicurezza dell'acqua giudicata potabile da Ruzzo S.P.A., società che gestisce il ciclo idrico terramano. Caputi ha però chiarito che non è ancora certo se la rottura del canale sia all'origine del problema e ha richiesto di analizzare le immagini delle telecamere interne al traforo e della fonte di alimentazione dell'acquedotto per verificare eventuali sversamenti accidentali. Attraverso la collaborazione con Ruzzo S.P.A. si procederà anche a un ulteriore accesso all'acquifero per ulteriori controlli. Durante l'audizione il vicepresidente di Strada dei Parchi, Mauro Fabris, ha evidenziato la necessità di un coordinamento più efficace tra i commissari e la società concessionaria dell'autostrada affinché siano tutelati sicurezza e diritto alla mobilità. Anche l'amministratore delegato di Strada dei Parchi ha chiesto inoltre un coinvolgimento preventivo di ANAS e degli altri gestori stradali per garantire percorsi alternativi adeguati durante i lavori, vista anche la presenza di numerosi cantieri sulla statale delle Capannelle, una delle principali vie alternative.